Laudetur Jesus Christus, cari amici, teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 31 maggio 2021 per il nostro commento del giorno. Ultimo giorno del mese di maggio dedicato alla Santissima Vergine Immacolata Corredentrice iniziamo il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Ed è proprio del Sacro Cuore di Gesù che parlerò in questa trasmissione cari amici per ricordare l'importanza e la centralità di questa devozione che un tempo era una devozione partecipatissima sentita nel mondo cattolico, oggi come tante altre importanti e fondamentali devozione finita nell'obbligo, nella dimenticanza e nella assoluta addirittura consapevolezza da parte di qualcuno dell'esistenza di questo ausilio straordinario che il Signore stesso ci ha voluto concedere. Ebbene cari amici, questo mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, una parola solo che nominare fa commuovere perché soprattutto per chi ha vissuto in epoche in cui è ancora questa devozione era centrale proprio nella nostra vita, nel centro delle devozioni più importanti che si vivevano nell'anno liturgico, oggi vedere questo stato di abbandono, questa desolazione, questa dimenticanza colpevolissima è qualcosa che ci riempie di una tristezza enorme. Ebbene cari amici, questa devozione e la solennità stessa del Sacro Cuore di Gesù viene collocata in una data che si celebra in genere il venerdì dopo il Corpus Domini, questa è proprio la festa del Sacro Cuore di Gesù, mentre poi il sabato seguente è dedicato al Cuore Immacolato di Maria e questa devozione nasce proprio, viene originata da una mistica francese che ricorderete sicuramente che è Santa Margherita Maria Racocche, praticamente la messaggera di questo culto che nel 1856 il Papa Beato Pio IX estese a tutta la Chiesa Cattolica, ma questa devozione al Sacro Cuore di Gesù era già praticata ovviamente nell'antichità cristiana nel Medioevo, poi il culto si diffuse in una maniera incredibile proprio a partire dal XVII secolo per opera di San Giovanni Eudes vissuto dal 1601 al 1680, ma soprattutto vedete fu Santa Maria Margherita Racocche vissuta dal 1647 al 1690 a diffonderne questa devozione straordinaria e la festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia probabilmente nel 1685, quindi una festa dicevo molto importante già praticata in passato perché ovviamente tutti sentivano l'importanza di questa devozione, ma pensate che la diffusione poi capillare di questa devozione fondamentale venne propagata dal padre Claude Lacolombière intorno al 1640 a 1680, ma soprattutto subito dopo dai sacerdoti della compagnia di Gesù e proprio i gesuiti furono quelli che ne diffusero proprio in maniera capillare questo culto e le promesse straordinarie e sublimi che Gesù fece a coloro che avrebbero abbracciato questa devozione al Sacro Cuore sono qualcosa, guardate, di straordinario, di fondamentale che va riportato naturalmente alla nostra attenzione. Ve le cito perché sono ben pensate ben dodici promesse, dodici promesse importantissime, di cui la dodicesima, l'ultima, è quella che voi ricorderete, quella centrale che riguarda proprio la salvezza delle proprie anime in relazione alla devozione dei primi nove verdi del mese. Ma comunque le promesse che Gesù fece a Santa Margherita Maria Lacocche furono queste, io ve le ricordo in ordine, metterò e conserverò la pace nelle famiglie, pensate, no? Quindi la devozione al Sacro Cuore di Gesù come proprio perseveranza nella, diciamo, unione nelle famiglie e nella pace interna. Poi la seconda promessa fu quella di concederò tutte le grazie necessarie allo Stato, a ciascuno Stato, non Stato come nazione, ma Stato di vita, quindi ai sacerdoti, agli sposati, ai consacrati, a tutti coloro che hanno abbracciato uno Stato di vita, io darò tutte le grazie necessarie per conservare fedelmente questo Stato di vita scelto e anche per, in qualche modo, perseverare in questa scelta nonostante le difficoltà. Poi li consolerò in tutte le loro pene, quindi il Signore che ci dà questa grande grazia della consolazione nelle difficoltà, nelle croci, nelle prove che noi viviamo ogni giorno, e poi ancora sarò loro sicuro rifugio in vita, specialmente in punto di morte. Pensate, no? Quando proprio si avvicina l'ora della tempesta, delle prove più difficili e soprattutto il momento terribile, perché in qualche modo il momento della morte è un grande mistero, no? E in questo passaggio sempre più si avvicina, che si avvicina al termine della nostra vita, appunto avere la consolazione e il Sacro Cuore di Gesù è qualche cosa che ci riempie di grande gioia, di grande serenità. E poi spanderò copiose benedizioni su ogni loro impresa, anche questa è una cosa straordinaria. Naturalmente parliamo di imprese volte al bene, non certamente imprese dal punto di vista solo dell'imprenditoria, diciamo, umana e materiale, quindi imprese in cui si cerca di creare delle opere, realizzare delle opere per il bene di Dio, quindi il Signore garantisce a chi opera per il suo nome e per il bene dell'umanità, questo successo e anche la possibilità di riuscire in queste operazioni. Ma poi ce n'è una molto importante di promessa che dice che i peccatori troveranno nel mio cuore la sorgente e l'oceano infinito della misericordia. E quindi vedete, no? Il ritorno dei peccatori al cuore misericordioso di Gesù, come motivo anche di consolazione, di ravvedimento, no? Magari dopo una vita dissoluta e disordinata, il cuore di Gesù che accoglie i peccatori contriti nella sua infinita e oceanica misericordia. Poi le anime tiepide diventeranno fervorose, quindi anche questo, no? Attraverso la devozione al Sacro Cuore di Gesù, superare questo ostacolo gravissimo della tiepidezza, no? E quindi di questo stato, diciamo, di indifferenza, di mancanza di voglia di lottare, di combattere per Nostro Signore diventando coraggiosi soldati di Nostro Signore e fervorosi. Poi ancora le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione. Quindi le anime che sono già incamminate su un sentiero di radicalità, di ricerca della perfezione, raggiungeranno sempre di più livelli e obiettivi importanti dal punto di vista della perfezione cristiana attraverso proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E poi ancora la mia benedizione si poserà anche sulle case dove sarà esposta e onorata l'immagine del mio cuore. E quindi l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, posta al centro, visibile all'interno delle case, diciamo, spanderà su tutta la famiglia un oceano di benedizioni. E poi, bellissima anche questa, cari amici, ai sacerdoti darò la grazia di commuovere i cuori più induriti. Quindi la grazia al Sacerdote che è devoto al Sacro Cuore di Gesù di toccare profondamente il cuore delle persone più dure per accelerare la conversione. Quindi una grazia legata allo stato sacerdotale che commuoverà il cuore dei peccatori attraverso l'intercessione del Sacro Cuore di Gesù che concede ai sacerdoti fervorosi. E poi ancora, le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà cancellato mai. Pensate che bello, no? Il cuore, la nostra devozione al Sacro Cuore di Gesù viene in qualche modo sigillata, scritta nel Sacro Cuore stesso, da cui non verrà mai cancellato come un libro in cui vengono registrati coloro che sono veramente devoti del Sacro Cuore di Gesù. E poi, cari amici, si arriva alla dodicesima promessa che è stata chiamata la grande promessa del Sacro Cuore di Gesù che è quella dei primi nove venerdì del mese. E dice questo Gesù a Santa Margherita A tutti quelli che per nove mesi consecutivi si comunicheranno il primo venerdì di ogni mese io prometto la grazia della perseveranza finale. Essi non morranno in mia disgrazia ma riceveranno i Santi Sacramenti ed il mio cuore sarà loro sicuro ausilio in quel momento estremo. Quindi la dodicesima promessa è detta proprio grande perché rivela la Divina Misericordia del Sacro Cuore verso l'umanità promettendo addirittura la salvezza eterna. Sapete che le condizioni per praticare i primi venerdì del mese sono quelli di accostarsi alla comunione ogni primo venerdì del mese con una comunione che va fatta bene cioè in grazia di Dio e quindi se si è in peccato mortale bisogna prima confessarsi. La confessione infatti deve essere fatta ogni primo venerdì del mese entro otto giorni prima rispetto al primo venerdì di ogni mese oppure otto giorni dopo perché la coscienza non sia macchiata dal peccato mortale. Poi comunione e confessione vanno offerte a Dio con l'intenzione di riparare le offese arrecate al Sacro Cuore di Gesù. Quindi ci si comunica con questa intenzione di riparare i peccati contro il Sacro Cuore di Gesù. Poi bisogna comunicarsi per nove mesi consecutivi ogni primo venerdì del mese e poi questa più pratica diciamo può essere iniziata in qualsiasi mese dell'anno. Quindi la Santa Comunione che si deve fare nel primo venerdì del mese è una comunione riparatrice e quindi essendo la comunione riparatrice nei confronti dei peccati commessi contro il Sacro Cuore di Gesù deve essere ricevuta proprio con l'intenzione di offrire conveniente riparazione per le troppe offese arrecate al Sacro Cuore di Gesù. Ricordo a questo proposito cari amici una cosa molto interessante che è legata alla famosa apparizione delle tre fontane di Roma quindi al diciamo questo personaggio questo cornacchiola un personaggio molto noto che appunto quando la Madonna gli apparve era un comunista tra l'altro aveva abbracciato la religione protestante aveva abbandonato il cattolicissimo la Madonna quando apparve gli disse io sono sempre fedele e quando diciamo tu hai fatto i primi nove verdi del mese che lui fece sul suggerimento di sua moglie e al termine dell'ultimo diciamo venerdì del mese lui ebbe questa grazia e l'apparizione della Madonna che gli disse il Signore è sempre fedele alle sue promesse quei primi nove verdi del mese che tu hai fatto ti hanno salvato capite cari amici che cosa vuol dire la devozione dei primi nove verdi del mese e soprattutto devozione del Sacro Cuore di Gesù e vedete che la rivoluzione del Sacro Cuore è legata non solo alla salvezza individuale delle nostre persone ma anche delle nostre famiglie ed anche della società intera perché il Signore il nostro Signore Gesù Cristo intende estendere la sua regalità non soltanto all'interno di noi delle nostre anime delle nostre famiglie ma anche delle nazioni delle società intere e ricordiamo appunto a questo proposito che proprio alla fine del XVII secolo l'Europa era sotto il gioco del protestantesimo che anche se ostacolato dalla Conte Oriforma comunque diffondeva le sue eresie e cominciava a corrompere gli spiriti che si allontanavano dalla Chiesa e proprio per contrastare questi pericoli che incombevano il Sacro Cuore apparve a Santa Margherita Maria Racocche facendo appunto queste rivelazioni straordinarie e questi messaggi proprio vedete del Sacro Cuore di Gesù erano indirizzati oltre che a noi a ciascuno di noi alle nostre persone per la salvezza alle nostre anime e della società anche all'epoca allo stesso re di Francia Luigi XIV detto il Re Sole con una particolare richiesta che Gesù rivolse proprio attraverso Santa Margherita Maria Racocche al Re di Francia la consacrazione del Re e della Francia al suo Sacro Cuore quindi chiese Gesù al Re di Francia di consacrare la sua persona prima di tutto e poi la Francia stessa al Sacro Cuore di Gesù e Gesù proprio a chiedere questo a Santa Margherita perché lo riferisse a Luigi XIV dicendo queste parole fai sapere al Figlio Primogenito del mio Sacro Cuore che come la sua nascita temporale fu ottenuta grazie alla devozione ai meriti della mia santa infanzia pensate no? quindi il Signore attribuisce la nascita ai Re Luigi XIV proprio alla devozione e ai meriti della mia santa infanzia vuol dire che erano devoti vedete dell'infanzia di Gesù i suoi progenitori e così dice Gesù la sua nascita alla grazia e alla gloria eterna verrà ottenuta mediante la consacrazione che egli farà di se stesso il mio adorabile cuore che vuole trionfare sul suo e mediante questo sui cuori dei grandi della terra il Sacro Cuore aggiunse Gesù vuole regnare nella sua reggia vuole essere raffigurato sui suoi standardi inciso sulle sue armi per renderle vittoriose su tutti i suoi nemici e battendo ai suoi piedi le teste orgogliose e superbe per farlo trionfare su tutti i nemici della chiesa la cosa è straordinaria che vale da pena rileggere con attenzione perché Gesù diceva a Luigi XIV nel Pressole che la salvezza della Francia la salvezza del popolo francese era legata a questo passaggio fondamentale che riguardava proprio vedete la devozione al Sacro Cuore di Gesù prima di tutto del re ma poi anche della Francia intera a cui doveva essere consacrato chiedendo dei segni tangibili come il fatto di raffigurare il Sacro Cuore di Gesù sugli standardi di Francia inciderlo sulle armi per renderla vittoriosa su tutti i suoi nemici abbattendo ai suoi piedi le teste orgogliose e superbe e per farlo trionfare su tutti i nemici della chiesa e terminava l'appello a Luigi XIV Gesù dicendo il Sacro Cuore desidera entrare con pompa e magnificenza nei palazzi dei principi e dei re per esservi oggi onorato tanto quanto venne oltraggiato umiliato e disprezzato durante la sua passione egli desidera di vedere i grandi della terra tanto abbassati e umiliati ai suoi piedi quanto allora venne annichilito quindi il Signore di riparazione dei peccati degli oltraggi delle indifferenze delle turpitudini che lui subì nel momento della passione chiese al più grande re di quell'epoca il re sole Luigi XIV di onorarlo quanto venne oltraggiato umiliato e disprezzato durante la sua passione desiderando di vedere i grandi re della terra tanto abbassati e umiliati ai suoi piedi quanto allora venne annichilito eppure cari amici teleradioscoltatori la consacrazione richiesta da nostro Signore Gesù Cristo al re non si realizzò perché il re non credette il re non credette a questa promessa e allora in mancanza di questa corrispondenza diciamo che il Signore desiderava questa corrispondenza alla grazia si abbatté sulla Francia un diluvio di una tempesta mai vista perché un secolo dopo esattamente sulla Francia si scatenò la rivoluzione francese che abbatté la monarchia stessa muovendo persecuzione alla Chiesa e al Santo Padre e il successore appunto di Luigi XIV Luigi il re Luigi XVI venne ghigliottinato dai giacobini rivoluzionari insieme alla sua consorte la regina Antonietta e da partire proprio da questa mancanza di fedeltà e di corrispondenza alla grazia la Francia iniziò la sua inarrestabile discesa che ebbe delle ripercussioni devastanti su tutta l'Europa cristiana andando sempre più alla deriva vedete cari amici cosa vuol dire questa perdita diciamo di fiducia questa mancanza no di questa mancanza di corrispondenza alla grazia questo orgoglio che metteva soprattutto e soprattutto queste figure diciamo umane che non volevano abbassarsi non volevano credere quello che il Signore aveva promesso e proprio a partire da questo quanto poco chiedeva al Signore per salvare la Francia per salvare lei stesso eppure vedete che ci sono delle mancanze di corrispondenza alla grazia che sono purtroppo in grado di determinare di determinare delle vere e proprie catastrofi e quindi che cosa accade in Francia accade che scoppiò la rivoluzione francese ma poi all'interno di questa rivoluzione devastante che portò delle conseguenze terribili no perché vennero imposte dai giacobini misure rigide amministrative aumento delle tasse leva obbligatoria nazionalizzazione dei beni ecclesiastici vennero rubati tutti soppressione degli ordini religiosi sostituzione della religione cattolica pensate con il culto all'essere supremo poi alla dea ragione che venne intronizzata con una statua all'interno della cattedrale Notre Dame di Parigi e tra i particolari avvenimenti che si scatenarono in quel momento avvennero proprio appunto che ci fu questo attacco a tutta la sfera religiosa la persecuzione e la decapitazione dei sacerdoti delle suore che arrivarono a un tale livello vedete di terrore e di gravità che si innescò una reazione che fu quella proprio della Vandea dei Vandeani questa Vandea che divenne il simbolo della resistenza a questo percorso rivoluzionario sanguinoso che si stava instaurando in Francia e questi cattolici Vandeani che resistevano che si armarono e che combatterono contro questi rivoluzionari giacobini venivano etichettati come selvaggi manipolati dal clero e dai loro antichi signori feudali e per gli avversari della Repubblica invece c'era solo diciamo la strage l'eliminazione fisica la deportazione e vedete questo che accade appunto fu qualcosa di veramente terribile in Francia pensate cosa vuol dire la mancanza di corrispondenza alla grazia c'era addirittura l'obbligo ai sacerdoti di giurare fedeltà alla Repubblica quindi rompere con la comunione la Santa Sede e cercare di assoggettarsi ai diktat che venivano imposti da questo governo giacobino repubblicano e quelli che i sacerdoti che invece si rifiutarono di giurare fedeltà al governo rivoluzionario erano chiamati i cosiddetti preti e refrattari vennero sistematicamente inflitte persecuzioni feroci imprigionati deportati e assieme a loro subivano vessazioni tutti coloro che nel popolo naturalmente si uniformavano e si univano a questi coraggiosi sacerdoti fedeli manifestando appunto una ferma resistenza a questa avanzata sanguinosa e devastante della rivoluzione e qui si innestò vedete questa questa reazione del popolo cattolico vandeano che partì proprio vedete dalla Vandea lo chiamiamo Vandeano perché la Vandea è quella regione della Francia dove questa reazione cattolica si appunto si sviluppò in una maniera straordinaria ma vedete che proprio la ragione per cui si sviluppò in Vandea fu semplicemente dovuta alla predicazione del grande santo mariano san luigi di non de monfort pensate che poco poco più di un secolo prima san luigi di non de monfort aveva predicato soprattutto nella Vandea nella bretagna proprio questa devozione fortissima alla madonna che fu al centro proprio di questa reazione che si innescò e che determinò di fatto questa straordinaria reazione che determinò proprio vedete poi alla fine il recupero di quei valori che però naturalmente non portarono alla restaurazione sociale civile nella Francia che invece purtroppo si incamminò in un sentiero sempre più tristemente laico e anticlericale che vedete ai giorni nostri si sta manifestando proprio al massimo livello di questa perversione di questo tradimento e dobbiamo sviluppare appunto in questo momento come allora anche oggi questa devozione fortissima al Sacro Cuore di Gesù ricordandoci proprio cari amici che se ci rivolgeremo al Sacro Cuore di Gesù come fonte di grazia come fonte anche di protezione straordinaria per noi per le nostre famiglie per la società soprattutto in questi tempi così difficili che noi stiamo vivendo oggi che ricordano molto quell'epoca dobbiamo proprio chiedere al Sacro Cuore di Gesù che ci rigeneri col suo sangue preziosissimo che ci lavi ci purifichi questo vedete è il senso di quella preghiera che noi facciamo nei primi veri del mese con la nostra comunione riparatrice tutti quanti vedete conosciamo l'episodio del centurione che trafisse con una lancia proprio questo tabernacolo che è il Sacro Cuore di Gesù e parte dell'acqua e del sangue che uscirono dal costato di Nostro Signore hanno bagnato i suoi occhi e il centurione Longino subito riacquistò una vista perfetta vedete questo fatto per noi è molto significativo perché significa che coloro che oggi prestano devozione al Sacro Cuore di Gesù possono chiedere anche loro una grazia simile non tanto per la vista fisica ma quanto per quella spirituale perché dobbiamo chiedere al Sacro Cuore di Gesù il senso cattolico che oggi si sta smarrendo chiediamo il senso di capire profondamente quello che sta accadendo in questo momento e di poter lottare grazie alla devozione al Sacro Cuore di Gesù per difendere la verità ogni giorno e di capire sempre di più come agiscono coloro che operano per il male coloro che ci circondano e che cercano di trasformare questa società in questo nuovo ordine mondiale demoniaco chiediamo anche la grazia cari amici di conoscere i nostri difetti di essere consapevoli di quello che accade attorno a noi di essere autentici testimoni della fede in questo momento di tenebre che ci circondano e chiediamo la grazia innanzitutto di guarire noi stessi perché non possiamo guarire la società se non guariamo prima di tutto noi ricordiamo quindi al sacro cuore di Gesù chiedendogli quell'acqua che ha guarito il centurione per eliminare la cecità delle nostre anime chiediamo al sacro cuore di Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria che ci guarisca da ogni cecità che in questo momento può tenebrare anche le nostre menti chiudiamo cari amici questa nostra trasmissione dedicata proprio al sacro cuore di Gesù con un passo direi molto bello di questa priera voluta in questi giorni proprio da Monsignor Schneider in riparazione per l'uccisione e lo sfruttamento dei bambini non nati c'è un punto molto significativo di questa priera che dice agli occhi della tua divina maestà l'umanità oggi è obberata dalla gravissima colpa del genocidio dei bambini non nati istigato da Satana l'omicida fin dal principio il maligno non si accontenta solo di distruggere la vita umana nascente ma le infligge ulteriori oltraggi e profanazioni sfruttando e commercializzando le cellule e le parti del corpo dei bambini uccisi nel ventre materno incrementando così la cultura della morte in proporzioni inimmaginabili e quindi con cuore contrito e spirito umile veniamo davanti a te oh Dio e ti offriamo i nostri atti di penitenza e di riparazione per questi peccati che gridano vendetta al cielo accogli umilmente la nostra supplica e la nostra offerta e abbi pietà di noi Amen e noi cari amici questo mese di giugno che dedichiamo al Sacro Cuore di Gesù chiediamogli proprio di fare il nostro cuore simile al suo Gesù umite umile di cuore fa il mio cuore simile al tuo e trasmettici questa ardente devozione che dobbiamo rafforzare nutrire come centro non solo fondamentale e portante della nostra vita cristiana ma anche come centro di una vera epopea in difesa della verità che proprio deve avere nel centro della devozione al Sacro Cuore uno dei suoi motivi portanti e a tutti voi cari amici teleradioscoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur Jesus Christus grazie a tutti grazie a tutti